Gossip Uomini e Donne, la scelta di Sara e laddio finale di Lorenzo Uomini e Donne Gossip News, il nuovo gesto di Sara che spiazza Lorenzo Nuovi clamorosi colpi di scena nel corso della registrazione, di cancelletto Uomini e Donne Trono Classico che cè stata ieri pomeriggio, dove abbiamo visto che per Sara affifella la situazione è diventata sempre più complicata ad un passo dalla fatidica scelta finale Chi seguirà la puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio su Canale 5 vedrà che Sara riuscirà a trovare la pace con Lorenzo e con Nicolò. Registrazione Uomini e Donne, Sara baccia di nuovo Luigi La tronista, infatti, riuscirà a recuperare in modo pacifico il rapporto con entrambi i due corteggiatori, complice anche il fatto che ha promesso di non baciare più nessuno dei due fino alla fine, aggiungendo che si tratta di una richiesta esplicita che le è stata fatta da suo padre A quanto pare, infatti, il papà della tronista gli ha chiesto di non baciare i suoi pretendenti fino alla fine del percorso e Sara vuole mantenere fede a questa promessa Eppure le gossip news che arrivano dalla registrazione di Uomini e Donne di ieri pomeriggio rivelano che Sara ha dimostrato ancora una volta di voler fare tutto di testa sua, facendo rimanere inascoltati anche i consigli di suo padre Nel corso della nuova esterna con Nicolò che è stato un nuovo intenso bacio tra i due, che ormai sembrerebbe fare capire a tutti che la tronista sia molto presa dal corteggiatore, al punto da non riuscire a mantenere fede alla promessa fatta a suo padre Una scelta decisamente molto forte quella di Sara, la quale ancora una volta si è lasciata andare alla passione travolgente con il giovane Nicolò e ovviamente ha scatenato lira e la reazione negativa da parte dellaltro corteggiatore Lorenzo, che non l'ha presa affatto bene Lorenzo lascia il programma, stavolta è definitivo? Le gossip news su Uomini e Donne rivelano che nella prossima puntata del Trono Classico assisteremo ad un nuovo duro scontro in trasmissione tra Sara e Lorenzo, al termine del quale il corteggiatore, amareggiato, comunicherà la sua inintenzione di voler abbandonare il programma e questa volta aggiunge che si tratta di una scelta definitiva Cosa succederà a questo punto? Quale sarà la reazione della tronista di fronte alla scelta di Lorenzo? Lo scopriremo nelle prossime registrazioni Grazie Grazie